Buongiorno a tutti, eccoci con il consueto riepilogo degli indici mondiali, come vedete ecco le performance di questa settimana, tutte performance negative al massimo fino al meno mezzo punto percentuale con standard eppure SSP500 appena sopra la parità. Se dovessero guardare solo questi numeri si potrebbe pensare a una settimana interlocutoria in attesa di chissà quale notizia, di chissà quale evento che potesse dare poi una scossa ai listini, eppure questi numeri non la raccontano giusta, perché in effetti di eventi in questa settimana ne abbiamo avuti, si è iniziato con un disegno di legge americano contro le violenze delle minoranze uiguri in Cina, per far chiudere anche i campi di rieducazione all'interno della Cina stessa, giusto perché dopo il fastidio della Cina alla legge americana per Hong Kong era un altro modo per gli americani di infastidire la diplomazia di Pechino. Non è stato dato neanche il tempo alla Cina di rispondere a questa nuova ingerenza, chiamiamola così, degli americani negli affari interni cinesi, che Trump esternava la possibilità di rinviare o a un qualsiasi accordo con la Cina a dopo le elezioni del 2020, cioè praticamente dopo novembre 2020, a un anno di distanza da oggi, di fatto facendosi che i dazi che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 15 dicembre a questo punto fossero inevitabili. Nelle ore successive le diplomazie americana e cinese hanno comunque lasciato trapelare delle informazioni che in realtà i colloqui stanno proseguendo tra le parti e si sta facendo di tutto per giungere ad una fase di uno di accordo assolutamente entro il 15 dicembre, proprio per evitare l'avvio di queste nuove imposizioni. Il vero asso nella manica di questa settimana è stato poi il dato venerdì sul lavoro americano che è uscito decisamente sopra le attese e che ha scatenato una netta reazione positiva su tutti i listini, un sell off su loro, con i listini che hanno praticamente recuperato tutto, come abbiamo visto dalle performance leggermente negative, tutto quello che si era perso nelle prime sedute della settimana, lasciando tra parentesi, se non ci saranno nuovi colpi di scena, ma con Trump che deve distogliere l'opinione pubblica dalle accuse di impeachment a questo punto tutto è possibile, quindi se non ci saranno nuovi colpi di scena a questo punto è molto probabile che potremmo assistere al famoso rally di Natale. Andiamo dunque a vedere i grafici nel dettaglio, partiamo sempre da casa nostra, l'apertura si è scesi, si è andato a chiudere questo gap, si è passati su questo supporto, si è scesi, volendo essere positivi noi diciamo che i volumi sono stati in aumento ma sono rimasti sotto la media, che il supporto in area 22.500 non è stato neanche avvicinato, che è stato chiuso il gap e che si è andati comunque a chiudere sopra il precedente supporto. Una lower shadow di circa 600 punti non è poca roba, sta a dimostrare il grandissimo recupero che è stato fatto praticamente nella sola seduta di venerdì, solamente nelle ultime sedute, nelle ultime ore di venerdì, per cui diciamo che è una candela sì, dall'esito negativo, di colore rosso, ma questa lunghissima lower shadow potrebbe dare ottimi spunti di recupero. Il primissimo ostacolo ce l'abbiamo su questi due massimi allineati all'incirca in area 23.650, dopodiché si potrebbe andare finalmente al testo di quei 24.000 punti che sono un ostacolo che pare insormontabile per Milano, già l'anno scorso quando è stato passato ma è durato neanche due settimane, quindi dovesse partire effettivamente questo rally Milano potrebbe finalmente passare sopra i 24.000 e a quel punto se dovessero diventare effettivamente supporto dare finalmente una svolta di medio-lungo termine per quello che riguarda il nostro listino. Andiamo a vedere l'altro listino europeo, il DAX, il DAX se vogliamo ha fatto anche un filino meglio, allora è sceso anche qui a chiudere il gap e ci siamo tolti di mezzo il gap, il supporto ha tenuto subito il primissimo supporto, i volumi anche qui sono stati in aumento ma sotto la media, ha chiuso leggermente sotto il supporto, ma insomma stiamo lì. Con questa sono 4 candele che il DAX sta congestionando sui massimi di periodo che sono anche i massimi del 2018, no questo era già a gennaio, quindi su questi massimi qui. A questo punto per arrivare al massimo storico di gennaio 2018, se dovessero partire, siamo arrivati, i 13.600 stanno qui, stiamo in area 13.200, quindi il DAX è in congestione, potrebbe finalmente partire e i 13.000 hanno dimostrato di tenere, quindi anche dal DAX abbiamo informazioni positive. Se andiamo dall'altra parte dell'oceano, alla fine praticamente non cambia niente, perché vediamo che il Dow Jones, che peraltro ha fatto una candela che a disegnarla a mano non ci si sarebbe riusciti, il Dow Jones è andato giù, giù, giù a chiudere il gap, a testare il supporto, dopodiché è ripartito ed è andato a chiudere, per quanto con una chiusura leggermente negativa, è andato a chiudere sopra la rialzista e con queste sono 1, 2, 3, 4 chiusure sopra la rialzista. Quindi questo supporto dinamico che continua a tenere e abbiamo la tenuta del supporto statico, per cui tutte buone notizie, medesimo discorso, volume in aumento ma sotto la media, il che sta a significare che nonostante tutte queste lower shadow non c'è stato il sell off, ci sono state vendite sui mercati ma non c'è stato un sell off, quindi non c'è stato panico sui mercati nonostante quello che stava accadendo e questo è un altro segnale molto importante a tenere in considerazione. Andiamo a vedere il Nasdaq, il Nasdaq ha disegnato una Dragonfly Dodge praticamente, apertura e chiusura allo stesso livello lunga l'overshadow non è arrivata neanche al test della rialzista di breve, piuttosto si preannuncia un possibile test in area 8600 della rialzista invece di lungo, quindi potrebbe essere una resistenza per la prossima settimana in caso di partenza. Medesimo discorso sui volumi in aumento rispetto alla settimana precedente ma sempre sotto la media. Andiamo infine all'SP500, l'indice degli indici, l'indice guardato in tutto il mondo e l'indice di riferimento mondiale oltre a tutte le medesime cose che abbiamo visto per i precedenti indici è anche l'unico indice che ha chiuso positivo, quindi apertura, è sceso, è risalito ed è andato addirittura a chiudere un filo sopra alla chiusura dell'ottava precedente, quindi abbiamo un close sui massimi di sempre e un massimo storico che è praticamente una decina di punti sopra, quindi basterà veramente poco all'SP500 per andare a registrare un nuovo massimo storico. Il supporto statico in area 3027 è rimasto ampiamente al sicuro, ci sono tutti i presupposti affinché questo rally di Natale da molti atteso possa partire, anche se in effetti gli indici sono in crescita già da parecchie settimane. Rimane l'incognita dell'impeachment di Trump, il quale deve far di tutto per distogliere l'opinione pubblica da sé e deve puntare ad altro. Vedremo se ci sarà il colpo a sorpresa dell'annuncio dell'accordo con la Cina o se a questo punto, visto il risultato del mercato del lavoro superiore atteso, i mercati vanno già per conto loro e quindi potrebbe anche solo bastare un semplice rinvio dei dazzi alla Cina dal 15 dicembre a 30 a 60 giorni per poter dare ulteriore slancio ai mercati senza con ciò dare nulla per scontato su questo accordo ed è una carta che il Presidente si potrà giocare prossimamente in caso di ulteriori problematiche sue personali. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona domenica, vi ricordiamo che dal 1 gennaio partiranno i due nuovi canali Bond e TS e per tutte le informazioni vi rimandiamo al nostro sito, abbiamo aperto anche un nuovo gruppo Facebook MacTrader Idei di Trading, veniteci a trovare e a scambiare qualche idea e qualche analisi con noi. Buona domenica a tutti!